E' vero che ultimamente piango anche davanti alle pubblicità, però è un video semplice fatto certamente da persone che come me amano gli animali e che mostra che l'amore è un linguaggio universale, che ci emoziona sempre tanto quando lo vediamo all'opera come in immagini come queste che ci dicono che l'amore ha la capacità di salvarci, ha la capacità di soccorrerci. Siamo stati creati per essere amati, siamo stati creati per amare. Tutto lo scopo della nostra vita potrebbe essere riassunto in questa semplice frase. Questo quindi significa che le relazioni all'interno delle quali l'amore si può dimostrare contribuiscono a definire ciò che siamo, la nostra identità, usando le parole di un frate, Thomas Merton, nessun uomo è un'isola. Non siamo stati creati per vivere da soli e questo concetto studiato e egregiamente anche articolato da tante scienze moderne è qualcosa che già troviamo pienamente rappresentato nella Trinità, nella natura di quel Dio che ci ha creati, dove quella che chiamiamo individualità da un lato e comunità dall'altro sono già lì presenti, dove ci sono tre persone distinte la cui comunione ne definisce identifica una sola. Dio è amore perché nella comunità di relazioni della Trinità l'amore è ciò che lega, identifica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Dio è amore ancora prima della creazione perché già amava. Perciò quando Dio crea l'uomo e la donna non lo fa né mosso da autocompiacimento né da un bisogno ma da puro amore. Ecco spiegato in modo semplice perché io e te siamo sempre in cerca d'amore. Come dice John Ortberg, vi suggeriremo questo libro, può andare nella slide, alla fine lo troverete dagli annunci. Dice questo, siete nati per vivere e realizzare il sogno divino di comunità è ciò per cui siete stati creati. Se non lo farete non importa cos'altro combinerete nella vita, quali grandi opere realizzerete o quanto sarà impressionante il vostro curriculum, morirete da perdenti. Dedicatevi a questo, ad amare le persone così come sono. Non importa se non vi realizzerete in altri campi, la vostra sarà una splendida vita. Perciò prima di continuare, mi permettete di farvi alcune domande? Dovete dire sì per forza. Che ruolo hanno le relazioni nella tua vita e qual è il loro stato di salute? Quanto tempo dedichi a coltivarle intenzionalmente? Quanto sei disposto a cambiare di te o a rinunciare perché acquistino il giusto valore? Che tipo di persona vuoi essere e che tipo di comunità vuoi contribuire a creare? Tenendo in mente queste domande oggi vedremo due aspetti molto importanti per avere una buona intelligenza relazionale che è la serie che stiamo facendo. Da un lato l'accoglienza e dall'altro l'empatia. Ci soffermeremo un pochino di più sul primo, sull'accoglienza e poi vedremo l'empatia da un punto di vista un pochino più pratico. Leggiamo insieme quindi un episodio del Vangelo di Giovanni però prima di farlo vi do un compito che io oggi ho fatto non ne sono stata minimamente esonerata. Il compito è di chiederti, chiedi a te stesso in quali cose e a chi assomigli dei personaggi che analizzeremo oggi in questa storia. Il mio consiglio è questo e ho dato a me stessa. Ha funzionato. Non dare niente per scontato. Permetti a questa storia di leggerti dentro. Leggiamola insieme. Gesù andò al monte degli olivi. All'alba tornò nel tempio e tutto il popolo andò da lui ed egli sedutesi li istruiva. Allora gli scrivi e farisei gli condussero una donna colta in adulterio e fatta la stare in mezzo gli dissero maestro questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Ormosè nella legge ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù Chinatosi si mise a scrivere con il dito in terra e siccome continuavano a interrogarlo egli alzato il capo disse loro chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. E Chinatosi di nuovo scriveva in terra. Essi udito ciò e accusati dalla loro coscienza uscirono a uno a uno cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù alzatosi e non vedendo altri che la donna le disse donna dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata? E la rispose nessuno signore. E Gesù le disse neppure io ti condanno. Va e non peccare più. Vediamo quindi i primi personaggi, i farisei e gli scrivi di questa storia. Con buona probabilità hanno organizzato l'aguato per cogliere la donna in adulterio. È difficile infatti pensare che si trovassero a passare lì per caso mentre succedeva il fatto. Così prelevano e probabilmente trascinano, strattonano la donna per portarla da Gesù. Sanno già dove trovarlo. È nel tempio ad insegnare. Il popolo era seduto e scritto ad ascoltarlo. Quel silenzio in cui si poteva dire soltanto la voce di Gesù venne interrotto bruscamente dalle voci sprezzanti dei farisei che gettano la donna nel mezzo così che tutti potessero vederla e fissando Gesù emettono il capo d'accusa contro di lei. È stata accolta in adulterio. Poi sfidano Gesù, lo guardano e gli dicono la legge ci dice di lapidarla. Tu che dici? Il loro comportamento crea un'immediata indignazione nella maggior parte di noi. Di sicuro quasi nessuno di noi sentirebbe di avere niente a che fare con persone come queste. Ma non diamo nulla per scontato e cerchiamo di tracciare meglio il loro profilo in base ai loro comportamenti. Vediamo. Il modo in cui si pongono rispetto alla donna ci dice che si sentono nettamente diversi dagli altri. Hanno tracciato una linea di confine che separa le loro vite da quelle degli altri. Consapevolmente o meno hanno sviluppato un sistema di vita per cui trovare il loro valore significa porsi in costante antagonismo con qualcun altro. Per affermare se stessi devono farlo a discapito di altri. Il modo in cui interpretano la legge ci dice che sono molto attratti dalla conoscenza ma poco dalla trasformazione. Sono grandi i conoscitori della verità ma non ne sono stati trasformati. Le uniche parole che usano verso la donna sono di condanna e questo ci dice che sono pronti a giudicare ma non ad aiutare. Che quando qualcuno è in difficoltà, quando qualcuno cade in qualche errore è molto più probabile che vadano a parlarne con altri piuttosto che con lui per dargli una mano. Il modo in cui sono disposti a provare le loro ragioni contro Gesù, esponendo la donna ad una vergogna pubblica completamente incuranti di quali potrebbero essere stati le reazioni suscitate nel popolo con quegli atteggiamenti, ci dice che sono disposti ad usare le persone come strumenti per raggiungere scopi personali e che vivono la comunità come un luogo di affermazione di se stessi e non di servizio per altri. La comunità è per me, non io per la comunità. La triste conseguenza di tutto questo è che sono ciechi riguardo alle loro debolezze e i loro peccati. Guardano all'adulterio della donna, lo riconoscono bene, ma non riconoscono il giudizio che è nei loro cuori né tantomeno la totale assenza di amore. Sono ciechi riguardo al loro vero bisogno di Dio, così impegnati a classificare peccati e persone in serie A e serie B, non hanno mai sperimentato un vero ed intimo bisogno di Dio. Non si sono mai rotti davanti a Dio. Hanno una visione distorta del suo amore fino a sentirsi attratti in competizione con lui. Credono di essere amati per la santa religiosità o per la moralità dei loro comportamenti. quasi come se fosse un amore dovuto. Stanno mancando, forse questa è una delle più tristi, il vero scopo della loro vita. Avevano l'opportunità di aiutare la donna ad uscire dai propri errori, restituendola ad una piena vita comunitaria, ma scelgono di condannarla finendo non solo con il cacciarla dalla comunità ma anche contribuendo a creare fratture all'interno della stessa. Pensate alla reazione per poco. E le relazioni che creano non sono profonde, sono più di tipo opportunistico. Il loro rapporto con gli scrivi è un sodalizio perfetto per uno scopo comune. Per tutto il resto una grande litigata. Che triste guardarli da questa prospettiva, eh? E ahimè quanto si sono accorciate le distanze con noi. Un atteggiamento altezzoso, una tendenza a giudicare gli altri, un certo uso di parole sarcastiche e di intolleranza, la presenza di rancore nel cuore, di amarezza, uno spazio piccolo e facilmente ancora più restringibile per l'amore per gli altri, una grande facilità a rimanere offesi dalle cose che gli altri dicono e una piccola capacità di sentirsi graci verso qualcuno. Sono l'altra faccia della medaglia, del profilo che abbiamo appena tracciato dei farisei. Chi di noi può tirarsene ancora pienamente fuori senza che facendolo dimostri esattamente il contrario. Che specchio nitido questa storia di quello che possono essere i nostri cuori, le nostre vite in alcuni momenti, in alcune stagioni, in alcune situazioni. Ma, grazie a Dio, i personaggi non sono finiti. Guardiamo ora l'altro personaggio della storia, a Gesù. Interrotto bruscamente mentre insegnava, non pensa, questi non sanno chi sono io, ora glielo faccio vedere. Non c'è orgoglio in lui, non coltiva rancore per i modi e i contenuti che erano stati usati contro di lui. Non sente di avere nulla da rivendicare riguardo a se stesso. Non si deve affermare. Nelle sue parole non c'è né amarezza né altizosità. Conosce benissimo il peccato della donna e quello degli scribi e dei farisei, ma il suo è un giudicare diverso, è un portare alla luce la verità per uno scopo diverso. Non copre infatti da un lato le colpe della donna, ma dall'altro aiuta anche gli scribi e i farisei a prendere coscienza delle proprie. Gesù non vive centrato su se stesso, ci sono solo io e tutto il resto gira attorno a me. È ben connesso all'ambiente e alle persone che gli stanno vicino. È capace di trasformare quell'infelice situazione, quegli errori che erano stati commessi da più parti, per un'opportunità di dare una bella lezione di vita a tutti, di crescita per tutti, operando sia su un piano individuale che su quello comunitario. E lo fa così, con i farisei e gli scribi. Avrebbe potuto umiliarli pubblicamente così come loro avevano pubblicamente umiliato la donna e volevano fare con lui. Ma ciò che lo motiva non è la loro umiliazione, è la loro redenzione. Per questo non li allontana, ma interagisce con loro, aiutandoli a capire ciò che c'era veramente nei loro cuori e nel cuore della legge, che non avevano capito. Con la donna non prende le distanze da lei, scandalizzato dal peccato commesso, come se lo sporcasse, ma è l'unico anzi a rivolgersi a lei e a ridarle dignità. Con il popolo. Non si allontana per avere una discussione privata con i farisei e gli scrivi, visto che l'occasione lo poteva richiedere. Ma include il popolo, rimane lì, include il popolo, rendendolo partecipe di quella meravigliosa lezione di vita, di amore e redenzione. In altre parole, è così che mette se stesso a servizio della comunità. Il paradigma della vita di Gesù non è io contro di te, ma io con te. Emanuele, Dio con noi. E questo ci porta al nostro primo punto. Siamo chiamati ad accogliere e non a respingere. Siamo chiamati ad accogliere e non a respingere. Questo è il messaggio di Gesù. Questo è il messaggio della croce. Dio che non respinge il nostro peccato, anzi ci accoglie con tutto il nostro peccato, lo prende su di sé per dare a me e a te una possibilità di una vita nuova. La croce ci attira perché è l'unico luogo dove verità e amore possono convivere, coesistere perfettamente. La verità nel lasciare emergere le nostre colpe, l'amore nell'aprire le sue braccia, accoglierci, stringerci forte così che la sua tenerezza possa guarirci e aiutarci a cambiare. I romani, l'apostolo Paolo scrive che è la bontà di Dio, è la bontà di Dio che ci spinge al ravvedimento, cioè al cambiamento. Leggiamo ancora un'altra citazione dello stesso libro. Sorprendentemente l'accettazione totale è in grado di fare ciò che il giudizio umano e la presunzione non possono, cioè produrre un cambiamento di vita. Immaginate cosa potrebbe accadere nelle nostre vite se facessimo nostro l'atteggiamento di Gesù, se smettessimo di sminuire il valore delle persone disprezzandole. Immaginate come sarebbe bello essere noti a tutti come quelli che non sono mai armati di pietre. Quanto è bello stare vicino a chi non è armato di pietre, a chi sa dirci la verità anche quando è dura con amore, a chi ci accetta e ci accoglie per quello che siamo. Accettare gli altri significa imparare ad accettare e capire anche se stessi. Non siamo poi così diversi, siamo tutti capaci dello stesso male che vediamo negli altri e anche dello stesso bene. Accettare gli altri significa che abbiamo bisogno gli uni degli altri e che non è a colpi di giudizio che aiuteremo qualcuno a cambiare, ma quelli d'amore. Possiamo scegliere di usare due tipi di pietre. Una sporca, impolverata, per lapidare con le nostre parole le persone che ci sono vicino. Le altre preziose, limpide, belle, colorate, per usarle, per incoraggiare e far rialzare le persone che ci stanno davanti. Che tipo di pietre hai in mano? Quali ti dà più a pagamento usare? Ci sono persone che si caricano quando pensano che hanno alcuni tipi di pietre in mano. quante persone hanno subito il colpo di una delle tue pietre? Se ne stanno ancora un po' girando e camminando un po' tutti i mezzi zoppi. O quante altre, grazie a te, hanno ritrovato il sorriso perché tu c'eri quando non se l'aspettavano e neanche se lo meritavano? Pensate agli effetti stravolgenti che avremmo sulla vita delle nostre comunità se usassimo le pietre più preziose e imparassimo a sbarazzarci di quelle che fanno più male. Ma da soli non possiamo farcela. Abbiamo bisogno gli uni degli altri di andare dall'altro e dire senti guarda c'ho un po' una trave qui dentro, mi aiuti a toglierla per favore e di lasciare che qualcuno venga da noi e dire aspetta aspetta vedo una pagliuzzetta lì dentro, ti posso aiutare? E tutte le volte che questo invece non accadrà e ci feriremo con le pietre sbagliate, perché questo accadrà ancora? Allora dovremo imparare a fare nostro quel bellissimo verso che ci dice che l'amore copre una grande moltitudine di peccati e di scegliere di non servare il rancore dentro di noi e l'offesa, di non andare da qualcun altro a mostrare l'errore, la nudità di colui che ci ha ferito, ma di andare alla croce dove Cristo si è spogliato, ha offerto lui la sua nudità per coprire la nostra vergogna e seguire il suo esempio e che gioia sarà dopo, quando accadrà, accadrà ma non sempre, accadrà, che vedremo qualcuno che grazie al fatto che non l'abbiamo respinto, che non abbiamo usato pietre contro di lui avrà ricevuto la più grande lezione d'amore che in quel momento aveva bisogno. Ed è così che con questo cuore ben disposto possiamo imparare ad avere empatia gli uni con gli altri, cioè in qualche modo a danzare la stessa danza. Che ne so, se io sto nell'atmosfera del lago dei Cigni e qualcuno viene, vuole ballare il cia 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 con me, non ci troviamo, giusto? O viceversa, ok? Quindi empatizzare, trovare quella capacità di connettersi al cuore dell'altro, di vedere dove sta, come sta. Questo ci porta al nostro secondo e ultimo punto. Siamo chiamati a guardare al cuore e non all'apparenza. Siamo chiamati a guardare al cuore e non all'apparenza. Come ha fatto Dio, no? Perché lo scopo della nostra vita sono i rapporti più che gli obiettivi e traguardi. Essere intelligenti, raggiungere grandi obiettivi lavorativi di carriera è bello, è importante, ma conta poco e ce lo godiamo proprio poco se non sappiamo vivere con gli altri. E infatti la seconda è un po' più difficile della prima. Per esempio, ci sono genitori che magari sono molto bravi a dare disciplina ai propri figli, a dare una buona e sana educazione, ma che non si siedono con loro a parlare, a sentire molto come stanno. Perché avrà preso quel 4 in matematica? Perché se ne sta sempre chiuso in camera al cellulare? Oppure ci sono altre persone, grandi lavoratori, che sono nel loro campo esperti più di ogni altro, ma che sono abusivi, scomodi, spiacevoli nel modo in cui si relazionano con i colleghi o i dipendenti. Scrive Daniel Goleman, possiamo leggere insieme, se non provi empatia e le tue relazioni personali non sono efficaci, non importa quanto sei intelligente, non arriverai lontano. È così, per costruire relazioni efficaci dobbiamo imparare a saper leggere le persone. Ognuno di noi è come un libro aperto che va in giro camminando e parlando. Ciò che c'è nel nostro cuore si riflette nelle nostre vite, nel nostro cuore, nel nostro sguardo, nelle nostre azioni e postura. Mandiamo continuamente segnali e saperli leggere significa imparare a capire dove stanno gli altri e come posso reagire per mettermi in sintonia con loro. Ignorarli invece significa non avere alcun interesse a farlo. Prendendo proprio spunto dal libro di Ortberg che vi consigliamo di leggere, lui fa l'esempio di questi cinque segnali stradali che un po' possono rappresentare come stiamo, no? O come stanno gli altri? E sono questi. Il primo è lo stop. Cioè dobbiamo imparare a capire quando fermarci. Questo segnale per me fino a qualche anno fa, ogni tanto ho anche qualche rigurgito più recente, però fino a qualche anno fa era praticamente inesistente sia con la macchina che con le persone. Ero diretta. Avanti. Non so dove, ma andavo avanti. Non mi fermavo. Ero un treno in corsa. Soprattutto quando si trattava di avere l'ultima parola e di avere ragione. Dopo che nel retrovisore della macchina ho iniziato a vedere cadaveri sparsi qui e lì, figurativamente ovviamente, ho incominciato a pensare che vincere l'argomento e perdere il mio interlocutore era proprio brutto. Ho anche iniziato a far tesoro di quell'altro verso bellissimo dei proverbi che ci dice che nella moltitudine delle parole non manca la colpa. A volte uno sguardo, una smorfia, un indietreggiare da parte dell'altro sono segnali che ci vogliono dire, aspetta, aspetta, vogliono comunicarci qualcosa. Magari non cercare di avere l'ultima parola. Non è il caso di parlarne adesso. Taci. Non interrompermi, sto parlando. Oppure semplicemente un modo per riflettere e pensare, forse anziché parlare sempre io, perché non gli chiedo come sta? Magari che consiglio può darmi su questa cosa? Lo faccio sentire apprezzato. Quanti cadaveri hai fatto anche tu? Quante volte ti fermi durante una conversazione per capire se balli il cia-cia-cia mentre lui è nel lago dei Cini? Il secondo segnale è la prova del palloncino. Cioè prenditi meno sul serio, sii meno sobrio, sempre figurativamente parlando. Smetti di essere, in altre parole, un musone, un occupo, uno sempre ombroso. Avere sempre ragione, fare un caso di ogni minima piccola cosa non è bello, è inutile e ci rende spiacevoli. Quindi in qualche modo gli altri si allontanano da noi. È scritto uno sguardo allegro, uno sguardo luminoso rallegra il cuore. La gioia e l'ironia sono contagiosi e quando le portiamo all'interno delle nostre relazioni, le relazioni stesse assumono un po' più di colore e le cose che sono difficili ci sembrano anche un po' più facili da affrontare. Hanno l'effetto di farci avvicinare, di creare complicità. Un po' di leggerezza è sacra nella vita e non a caso Dio ci ha dato il senso dell'umorismo, perciò usiamolo. Autoironia e usiamolo anche con gli altri. Quanti musi lunghi conoscete? Oppure sei un muso lungo? Il terzo, ne sono cinque, abbiamo quasi finito, il terzo è attenzione, cioè un cantiere. E questo ci vuole dire che ogni relazione è un cantiere, cioè che ha bisogno di essere costruita, che mettiamo del materiale lì dentro, non vada sola, non lascia un cantiere e il giorno dopo trovo la casa, no? Va costruita. E le emozioni che useremo sono parte di quel materiale con cui costruiremo le nostre relazioni, perciò domandiamoci quali sono le emozioni che più ci caratterizzano? Rabbia, tristezza, scoraggiamento, pure speranza, gioia. Quelle determineranno la qualità delle relazioni che viviamo. E per questo è altrettanto vero che se ci circondiamo di persone che hanno buon materiale emotivo da darci, la loro compagnia sarà più piacevole, le nostre relazioni cresceranno più in fretta. Quali sono i materiali che più metti nelle tue relazioni, nel cantiere nascosto di casa tua? Cosa c'è di più? E di quali persone ti circondi di più? Quattro, strada chiusa. Ci sono dei blocchi che si creano nelle nostre vite o magari all'interno delle comunità, largamente intese, luogo di lavoro, una famiglia, una chiesa. Circostanze di vita, atteggiamenti o decisioni sbagliate che sbarrano la strada, magari la presenza di un conflitto, l'uso del sarcasmo, una competitività eccessiva, uno spettacolare, iniziano a cambiare la direzione dei rapporti che stiamo vivendo, delle comunità che stiamo frequentando. Piano piano iniziano a cambiare strada per la presenza di una di queste cose. Dobbiamo imparare a riconoscere quando ci sono questi tipi di ostacoli, questi tipi di inciampi che portano, spostano l'asse, la direzione di una relazione o di una comunità, di un rapporto verso una strada chiusa, senza via d'uscita, dove rischia di andare a morire e chiederci cosa posso fare per cambiare questa direzione? Cosa posso fare per aiutare questo rapporto con la mia comunità ad andare invece a ritornare nella direzione giusta? Quali rapporti nella tua vita stanno andando, si stanno dirigendo verso una strada chiusa? Quali cose hai notato nella tua comunità, nella tua famiglia, nel tuo luogo di lavoro che possono e hanno bisogno di ricevere il tuo aiuto. E infine, lavori in corso su tutte le carreggiate. E questo ci fa capire che ognuno di noi è un cantiere in corso, un lavoro in corso costante. Ognuno di noi brama sentirsi incoraggiare, brama avere qualcuno che creda in noi, che ci rialzi quando cadiamo, che tiri fuori il meglio di noi, soprattutto quando ci sono lavori in corso in tutte le carreggiate, fallimenti a destra, delusioni a sinistra, perdite, traumi, sconforti. Quando non sappiamo da dove iniziare, quando non siamo sicuri se riusciremo a farcela. Leggiamo questo verso di proverbi che ci dice che le parole dette a tempo sono come frutti d'oro in vasi d'argento cesellato. Le nostre parole dette a tempo possono cambiare la vita di chi ci sta vicino, possono rialzare chi è caduto, possono incoraggiarli nel cammino della vita, sostenere le fatiche che non riescono a fare da soli, essere tifosi dei successi con loro perché nessuno lo è. Penso a quell'immagine che l'autore della lettera agli ebrei ci dà. Lui scriveva ai suoi lettori che vivevano un tempo molto difficile, fallimenti ma anche grandi prove e per incoraggiarli lui dice vedete siete come in una grande gara e voi state correndo e attorno a voi c'è una nuvola di testimoni che fa il tifo per voi. Non mollare, non ti fermare, ne vale la pena, forza e davanti a voi avete Gesù, autore e compitore della vostra fede che ti aspetta figlio, ce la fai, io ti ho chiamato, io ti porto, io ti aspetto. Siamo corridori di questa gara che è la vita, corridori che hanno bisogno di essere incoraggiati, corridori che devono imparare a incoraggiare. Ci diamo con questa citazione che dice siate guardiani dello spirito umano. Volendo avete il potere di manipolare e forzare o se preferite di evitare e di ignorare ma potete anche nobilitare e ispirare, potete risollevare e fare appello a tutto ciò che è buono, onorevole e santo. Potete ricordare a chi si sente fallito e perduto che la sua vita e la sua chiamata sono sacre, che i suoi sforzi non sono vani e che le sue peggiori sconfitte un giorno saranno riscattate. Che tipo di persone vogliamo essere? Che tipo di comunità vogliamo imparare a costruire? Abbiamo davanti a noi Gesù, esempio perfetto, il quale pur essendo Dio non stimò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi ma spogliò se stesso e si fece servo fino alla morte e alla morte di croce. Grazie a tutti.